Allora, ciao a tutti! Oggi parliamo dell'elenco completo dei giochi che Prime Gaming regalerà a tutti gli abbonati di Amazon Prime durante tutto il periodo di dicembre. Allora, partiamo già col fatto che io in un video di due settimane fa, per la precisione, vi avevo fatto vedere che Amazon avrebbe regalato Need for Speed at Pursuit. Quindi, primo titolo Premium, loro attualmente stanno regalando almeno un paio di titoli, comunque non dico top di gamma, però tenete conto che Need for Speed è uscito l'anno scorso, è una remaster di un gioco che ha dieci anni, ma comunque è un gioco venduto, se non sbaglio, a 40€, comunque di pregio, non nel top, ma comunque chi, come ho già detto nel video stesso, che trovate qui sul mio canale, vale assolutamente la candela, vale le 6, 7, 8 ore, per cui appunto è previsto tutto il gameplay, e sicuramente io me lo rifarò perché non l'ho comprato l'anno scorso, né l'ho avuto l'anno scorso, ma sicuramente l'ho giocato all'uscita e non mi dispiacerebbe sinceramente tornare a derapare, a fare comunque gli pseudo incidenti, nel senso che comunque avevate gli incontri con la polizia, gli scontri con le vetture, le gare, è un gameplay che comunque secondo me rimane comunque fresco, con delle grosse limitazioni, lato mappe che non hanno più l'open world, oggi è impensabile fare un gioco, un racing arcade di questo tipo, senza pensare di fare comunque un open world, non ha proprio senso, non viene neanche più credo concepita la cosa, visto soprattutto che alcuni pezzi di piste sono stati riciclati, alcuni erano pezzi più lunghi, pezzi più corti, intersezioni, zone, comunque che venivano sfruttate in vari modi, non aveva assolutamente alcun senso oggi riuscire a fare, ma ripeto, nessuno lo farebbe più, ma resta il fatto che gratuitamente durante le vacanze di Natale spararsi questo gioco può avere tutto il senso del mondo. Bene, come potete notare dall'alto delle schede, sbirciando tra quelle che sono le cose che trovate qua in alto, il secondo titolo premium, per quanto mi riguarda lo ritengo tale, è Frostpunk, Frostpunk è un gioco che appunto come vedete qua tre mesi fa circa è stato presentato nel suo seguito, un titolo che dovremo totalmente valutarne nella sua interezza, sicuramente avrà anche degli investimenti più interessanti, più corposi, gioco a cui purtroppo la mia colpa sicuramente è quella di non avergli dedicato abbastanza tempo, l'ho giocato, ma devo dire molto sinceramente troppo poco, ingolosito tra l'altro da un'edizione PC, che cosa ormai che non esiste più era appunto in edizione fisica PC e l'ho portato a casa pensate a credo una decina di euro, ma soprattutto perché io adoro lato collezionismo, gli artbook, per quanto mi riguarda l'unica cosa che io colleziono delle versioni limited nel momento in cui comunque ha dei prezzi umani, è il fascino di sfogliare qualche artbook che comunque nasconde i disegni, le storie, le bozze che hanno poi portato alle bellezze grafiche che appunto sono del titolo stesso, è un gioco complesso, un gioco che punisce, ma un gioco che comunque è corretto nei confronti dei giocatori, è un gioco che comunque ha senso, ma anche dal punto di vista grafico, veramente ben strutturato, ben studiato e totalmente originale in sé, arriverà appunto nel 2022, io nel frattempo magari mi farò qualche altra partita, magari ve la farò vedere, però resta il fatto che comunque al di là di tutto verrà regalato il mese prossimo, quindi accorrete, come ho già detto in altri video prima, che magari me lo chiedeste, visto che me l'avete chiesto in altri video che avevo fatto, tutto ciò si scaricherà sicuramente tranne per pochi indie, li scaricherete quindi sia il buon Need for Speed Hot Pursuit, sia Frostbank, li scaricherete sui vari store, quindi potrebbe essere GOG, nel caso ovviamente di Need for Speed sarà Origin, e come vi ho detto speriamo che a gennaio ci possa essere un altro racing che io sto aspettando tantissimo, che è Burnout Paradise Remastered, io spero, faccio il sattona a non comprarlo, che tra l'altro lo trovate anche a 5 euro, molto velocemente, molto facilmente, c'è già stato in varie occasioni, io mi auguro che lo regalino a gennaio, ma se non sarà gennaio sarà febbraio, comunque arriverà sicuramente molto 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 presto. Cito anche gli altri titoli, ovviamente non è finita qua, ci sono altri titoli da riscattare, che possono essere magari interessanti per qualcuno che li vuole vedere, e parliamo di Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, quindi altro titolo se non di primissimo piano, comunque interessante, per tutti coloro che amano questo tipo di genere, quindi un titolo che fa sempre anche ottime vendite, Mork Red, titolo che non conosco assolutamente, Spellcaster University, YouTuber's Life, Stabs, The Zombie in Rebel Without a Pulse, e soprattutto i Tales of Monkey Island Complete Pack. Ora, io non sono amante dei Monkey Island, non lo sono stato, devo dirlo, molto sinceramente, totalmente, sui Tales of di Monkey Island, perché secondo me avevano un pochino snaturato l'idea originale, ma resta il fatto che comunque per chi ama questo tipo di genere, c'è davvero tanta roba da cui attingere, da cui attingere, e ricordo per la centesima volta, sia che appunto voi potrete riscattarli sui rispettivi, quasi tutti, secondo me tutti quelli più importanti, ve li riscattate sui relativi store Epic, GOG, Steam, Origin, eccetera, quindi non ve ne preoccupate di questo. Dall'altra, come riscattarli è estremamente semplice, lo rispiego velocemente per tutti quanti, basta che voi abbiate Amazon Prime, che pagate come abbonamento, oltre ad Amazon Video, tutto quello che riguarda le spedizioni, eccetera, eccetera, vi dirigete su Twitch e dal primo, massimo 2 di dicembre, vi si sblocca tutti questi titoli e a vostra volta potrete poi collegarli ai vari store di riferimento. Spero di essere stato chiaro, eventualmente, come dico sempre, iscrivetevi al mio canale in modo tale da poter commentare questi video e altrimenti non potreste farlo e il commento verrebbe immediatamente cancellato. Fatemi sapere se siete tra coloro che non sgomitano per essere tra i primi a poterli riscattare e poter giocare in allegria completamente gratuitamente, non c'è il pass, non c'è questo, non c'è l'altro. Voi con il Prime ve li giocate gratis. Quindi, ragazzi, è tutta roba sana, buona. Come dico sempre, un'ottima giornata per voi. Ci vediamo al prossimo video e ciao. Grazie a tutti.